Lavoro di squadra e collaborazione multidisciplinare per operare e curare all'azienda ospedaliera universitaria senese un bimbo ucraino di 5 anni proveniente dall'ospedale di Kiev e giunto in Italia subito dopo lo scoppio della guerra. E' questa la storia del giovane paziente affetto da una stenosi dell'esofago da ingestione di caustici e per tale motivo portatore di gastrostomia percutanea a causa delle difficoltà nell'alimentazione presentate sin dal 2019. Il bambino è arrivato nel senese grazie all'opera umanitaria di Croce Rossa italiana e cooperativa ospita di Grosseto ed è stato preso in carico dai professionisti della chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera universitaria senese diretta dalla professora Mario Messina. Sono molto contento, questo ci fa capire che cosa vuol dire quando si coopera e si collabora insieme e che cosa si riesce a fare. Quindi grazie veramente alla Croce Rossa, alla cooperativa di Grosseto che hanno partecipato, devo dire che era un caso molto difficile e grazie alla collaborazione di tutti, ecco questo fa capire che cosa vuol dire la multidisciplinarità, abbiamo risolto un caso veramente difficile. Quindi non possiamo essere che contenti. Poi era anche un bambino dell'Ucraina quindi a maggior ragione siamo veramente molto felici. Questa è la ricostruzione della vicenda da parte del professor Francesco Molinaro, chirurgo della chirurgia pediatrica che ha seguito direttamente il caso. Il bambino è un bambino di 5 anni proveniente da Kiev, l'abbiamo preso in gestione a partire dal mese di aprile, da praticamente l'inizio dello scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia. Il bambino si trovava all'ospedale di Kiev e aveva delle grosse problematiche ad alimentarsi per una sospetta ingestione di sostanze corrosive accidentali attraverso la bocca. Quindi aveva l'esofago quasi completamente chiuso e dunque ci siamo trovati ad affrontare questa problematica e direi che abbiamo poi messo su un'equip insieme ai nostri anestesisti, i nostri infermieri, sale operatori ma soprattutto con i colleghi della gastroenterologia diretta dal dottor Macchiarelli e insieme abbiamo messo su un programma che ha portato a dilatare correttamente l'esofago per cui il bambino ora al momento non ha più problemi di alimentazione. Grazie poi anche al supporto dei colleghi della logopedia che ci hanno supportato poi nel rinsegnare al bambino a mangiare. All'ospedale di Siena il piccolo è stato sottoposto a successive progressive dilatazioni per via endoscopica dell'astenosi eseguita in collaborazione con l'equip del dottor Raffaele Macchiarelli, direttore della gastroenterologia ed endoscopia operativa e con il gruppo di anestesisti pediatrici diretti dal professor Pasquale Donofrio e il fondamentale supporto infermieristico e di tutto il personale di sala operatoria. Tutto questo associato ad un percorso di training masticatorio con l'ausilio della logopedista ha permesso una progressiva rialimentazione del paziente che attualmente assume senza difficoltà boli di piccole e medie dimensioni. I dettagli dalle parole del dottor Raffaele Macchiarelli. Il bimbo è arrivato dal suo ospedale di provenienza dove aveva già subito, diciamo era stato già sottoposto a delle dilatazioni endoscopiche però quando l'abbiamo avuto noi sostanzialmente queste non erano state efficaci perché avevamo un passaggio che era inferiore a 5 mm cioè noi abbiamo degli strumenti dedicati neonatali che sono di un diametro di 5 mm e con quello strumento non si passava, non si riusciva ad esplorare il viscere per cui abbiamo iniziato la procedura endoscopica delle dilatazioni assistita radiologicamente, questo per chiaramente motivi di sicurezza e sono state effettuate dilatazioni progressive nell'arco con intervalli diciamo di una settimana circa fino ad ottenere un diametro superiore ai 10 mm. Contemporaneamente alle dilatazioni sono state fatte delle infiltrazioni di steroide che sui punti circostanti diciamo il punto ristretto e questo aiutava a mantenere il calibro perché la problematica più importante in questa situazione è che dopo la dilatazione c'è il rischio molto elevato che l'astenosi si riformi quindi facendo dilatazioni ravvicinate sostanzialmente e con l'aiuto anche dell'osteroide che è stato infiltrato è stato appunto iniettato nella mucosa il risultato è stato ottimo perché come diceva Francesco Molinaro insomma il bambino ha ripreso a mangiare.